Mirko Cuneo Podcast. Strategie e consigli per far crescere il tuo business. Ciao sono Mirko Cuneo e ti do il benvenuto nel mio nuovo podcast. Oggi parliamo di Amazon e per essere precisi affrontiamo la domanda che ogni imprenditore o professionista si è posto almeno una volta soprattutto nell'ultimo periodo. Conviene vendere su Amazon? Nelle ultime settimane ho ricevuto molte richieste di informazioni e consulenza da parte di imprenditori che hanno già un e-commerce ma anche da coloro che ancora non hanno venduto online. La motivazione di tanto interesse è chiara. Viviamo in un momento complicato della nostra vita sia dal punto di vista della salute sia da quello imprenditoriale e finanziario. Da imprenditore capisco molto bene le sfide e le difficoltà che vivono le piccole e medie imprese in Italia. La maggior parte dei business si sono fermati e hanno subito delle rigide restrizioni. È giusto rispettarle ma è altrettanto giusto trovare dei metodi alternativi per continuare a far crescere la propria azienda e per farlo è necessario avere le conoscenze e le capacità per mettere in pratica strategie che funzionano. Se sei già arrivato qui sono sicuro che tu abbia un po' di curiosità e che tu ti stia chiedendo se effettivamente il mondo dell'e-commerce e di Amazon facciano per te e in che termini. In questo podcast infatti imparerai quali sono i vantaggi generali di vendere su Amazon, contestualizzati in particolar modo in questo particolare momento storico. Se sei un venditore o un imprenditore dovresti prendere seriamente in considerazione di fare affari su Amazon. Infatti i consumatori utilizzano Amazon sempre di più come motore di ricerca. Quindi quando hanno bisogno di un prodotto invece di cercare su Google accedono direttamente all'e-commerce numero uno al mondo per vedere che cosa gli viene proposto. Questo succede soprattutto se gli utenti in questione non hanno un'idea precisa del brand a cui vogliono affidarsi o se cercano un prodotto che gli venga consegnato direttamente a domicilio. Infatti fra le motivazioni del successo di Amazon c'è anche quella di essere un marketplace con un servizio di logistica a disposizione non solo per la comodità dei consumatori ma soprattutto dei venditori. Ai consumatori piace comprare online proprio perché non devono spostarsi per andare direttamente al negozio. Beneficio che in questo periodo risulta sicuramente un vantaggio concreto. Questo gli permette anche la comodità e la flessibilità di gestire al meglio il proprio tempo che è una risorsa sempre più preziosa al giorno d'oggi. Se il tuo brand può garantirgli il prodotto che cercano e anche la sicurezza di riceverlo a casa in tempi brevi e prestabiliti tu avrai molte più opportunità di essere la loro scelta di acquisto. Se non ti è del tutto chiaro quello di cui sto parlando non ti preoccupare. Durante questo podcast ti spiegherò tutto quello che devi sapere e risponderò alle domande che più frequentemente mi vengono poste dai miei clienti. Dunque per riuscire a vendere su Amazon ci sono delle cose di cui bisogna tenere conto e che hanno necessità di analisi e strategia. Amazon ha reso il suo mercato accogliente per tutti i nuovi arrivati sia per chi vende sia per chi acquista. Questo non vuol dire che sia un luogo assolutamente perfetto ma offre sicuramente moltissimi vantaggi. Perciò adesso ti parlo dei pro e dei contro di questa piattaforma partendo dai dubbi che hanno i miei clienti e che credo possano essere anche i tuoi. La prima domanda che mi viene in mente è che cosa concretamente devo fare per iniziare a vendere su Amazon? Sicuramente devi aprire un account Amazon e creare il tuo profilo venditore in relazione al tipo di prodotto che vendi. Amazon ha più di 30 elenchi di prodotti, molti dei quali richiedono un hitter di approvazione. Per sapere come devi muoverti vai sul mio sito mircocuneo.it dove trovi un articolo intitolato Oltre l'e-commerce. Vendere su Amazon per ampliare il tuo business. Ti fornisco le informazioni necessarie per capire come funziona la vendita su Amazon. Ma andiamo avanti con la seconda domanda più frequente ovvero il mio prodotto si può vendere su Amazon? Devi sapere che ci sono delle categorie di prodotti che tutti i venditori possono commercializzare liberamente. Anche in questo caso trovi sempre la lista completa in quel mio articolo. Se il tuo prodotto non rientra all'interno della lista che comprende circa 20 categorie allora bisognerà compilare un modulo e fare richiesta specifica per l'attivazione di un piano vendita professionale. In ogni caso per capire se ti conviene vendere su Amazon è necessario valutare la tua situazione specifica, il tuo prodotto, il tuo mercato e le tendenze di vendita. Questo significa che anche per vendere su Amazon devi fare un'analisi approfondita del tuo business e costruire una strategia ad hoc. Se hai fatto tutto questo allora ecco che ti farai la terza domanda ovvero che cosa devo fare per riuscire a vendere i miei prodotti su Amazon? Certo perché non basta avere un account per iniziare a vendere ma devi promuovere bene il tuo prodotto altrimenti non lo vedrà mai nessuno. Per fare questo è indispensabile costruire delle schede prodotto a regola d'arte. Adesso ti svelo un segreto. È vero che su Amazon c'è una fartissima concorrenza ma ti assicuro che delle schede prodotto fatte davvero bene possono fare la differenza. Infatti sono pochi quelli che sistemano nel modo corretto le schede dei propri prodotti perché a tanti sembra una perdita di tempo. Invece è proprio da questo che dipende la tua possibilità di posizionare il tuo prodotto fra i primi risultati di ricerca. Ogni scheda prodotto deve essere costruita seguendo delle logiche specifiche e deve rispettare dei requisiti precisi per riuscire a posizionarsi. Ti faccio un esempio. Bisogna fare attenzione alla qualità della foto, all'utilizzo di determinate parole chiave che devono essere quelle che gli utenti cercano e poi ancora devi formattare correttamente il testo, utilizzare gli elenchi puntati e scrivere informazioni che siano davvero quelle che gli utenti vogliono sapere. Per fare questo devi conoscere bene i tuoi potenziali clienti ovvero quei consumatori che vogliono il tuo prodotto per risolvere un loro problema o soddisfare un desiderio. Ricordati che prima di essere un venditore di prodotti tu sei un venditore di risultati ed è proprio questo che devono percepire i tuoi clienti. Quindi anche per la descrizione del tuo prodotto non mettere il focus solo sulle caratteristiche specifiche ma basati sulle esperienze di utilizzo che possono fare i tuoi clienti. Significa che bisogna che tu faccia immaginare ai clienti che esperienza vivranno grazie a quell'acquisto. Forse pensi che per il tipo di prodotto che vendi tu questo non sia necessario, invece ti sbagli. Il mercato è diventato conversazione ed esperienza e i consumatori sono sempre di più alla ricerca dei prodotti giusti, cioè quelli che soddisfino al meglio le loro esigenze. Sta a te trovare il modo di raccontarglielo e farglielo percepire. Un'altra cosa importante da tenere in considerazione ed è la quarta domanda che mi fanno i miei clienti riguarda la logistica, ovvero come faccio a far arrivare i miei prodotti fino a casa dei clienti? Qui le opzioni principali sono due. Utilizzare l'opzione FBA oppure l'opzione FBM. Adesso te le spiego subito. L'FBA è la sigla che identifica il servizio di spedizioni fornito direttamente da Amazon, mentre FBM significa che sei tu, in quanto venditore, che ti occupi personalmente delle spedizioni. Come si fa a scegliere fra le due opzioni? Bisogna fare un'analisi dei pro e dei contro. Se ti affidi al programma FBA è Amazon che si occupa di imballaggi, spedizioni, resi di prodotti che non vanno bene e gestione del servizio clienti. Il tutto rispettando i requisiti di qualità voluti da Amazon. Inoltre ti dà la possibilità di vendere i tuoi prodotti anche su Amazon Prime e questo è sicuramente un vantaggio notevole, siccome, secondo i rapporti Amazon, sono 150 milioni in tutto il mondo gli utenti abbonati al servizio Prime. Ma non c'è nulla di gratuito, quindi il contro è che questo servizio ha un costo in cui la percentuale varia a seconda della categoria del prodotto, dalle rimanenze di magazzino e così via. Con il programma FBA sei tu il responsabile della raccolta, l'imballaggio, le spedizioni, i resi e tutta la gestione della tua merce. Eviterai alcune commissioni che derivano dal programma FBA ma ti verrà richiesto di rispettare tutte le regole e requisiti di un venditore Amazon. Vale a dire che devi rispettare tempistiche da record, rispondere ai problemi di assistenza clienti in 24 ore, fornire tutte le informazioni di tracciamento di viaggio del tuo prodotto, spedire la merce entro il periodo di tempo indicato. Inoltre non potrai accedere al servizio Prime a meno che tu non venda con l'opzione Seller di Amazon. L'opzione Seller è un altro programma ibrido che ti permette di gestire le tue spedizioni e nel contempo di elencare i tuoi prodotti come Prime. Tuttavia non è facile qualificarsi per questo servizio. Dovrai attraversare un periodo di prova e rispettare dei requisiti di qualità ed efficienza molto elevati. Quindi conviene vendere su Amazon con il programma di logistica FBA o FBM. La situazione va valutata caso per caso secondo un'analisi approfondita delle tue di possibilità e della tipologia della tua merce. Se sei arrivato fin qui e non ti sei ancora perso d'animo, la quinta domanda che ti farai riguarda la pubblicità, ovvero Ha senso fare pubblicità a pagamento per i miei prodotti su Amazon? Sono sicuro che indovinerai subito la risposta. Esatto. La verità è che dipende. Devi fare una valutazione del tuo settore, del mercato in cui tu inserisci e di quali sono le ricerche che i consumatori fanno su Amazon. Ci sono alcuni prodotti per cui c'è un livello di competizione molto alto e altri prodotti che non sono presenti oppure ce ne sono pochi. In questo caso conviene vendere su Amazon e investire dei soldi nella promozione, oppure no? La risposta è sempre dipende. Anche se un prodotto non è presente e quindi in teoria tu riusciresti ad apparire subito, in questo caso ci sono due variabili. La prima è che forse nessuno prima di te ha pensato di aprirsi ad Amazon, quindi per te potrebbe essere una grande opportunità. Nel secondo caso, forse, semplicemente il tuo prodotto non funziona su questo marketplace. Quindi, anche se ti posizioni benissimo con la tua scheda prodotto, potresti non concludere vendite perché i consumatori non ti cercano. Perciò, se conviene vendere su Amazon è una domanda che ti devi porre all'inizio, prima di fare o di farti fare da un professionista tutte le valutazioni, ma anche alla fine una volta che hai davanti agli occhi tutta l'analisi della situazione. Bene, siamo arrivati alla fine di questo podcast e gli argomenti trattati sono stati davvero molti. Ti faccio un breve riepilogo dei punti fondamentali. Vendere su Amazon è sicuramente una missione fattibile, ma necessita di un'analisi seria e specifica. La concorrenza è tanta, quindi per ottenere i risultati positivi devi giocare al meglio le tue carte e sfruttare bene tutti gli strumenti. Devi ottimizzare le tue schede prodotto e trovare il modo migliore per occuparti delle spedizioni e Amazon ti dà la possibilità di ampliare il tuo bacino di clienti e appoggiarti alla sua reputazione. Infatti è uno dei marketplace e dei brand più conosciuti, utilizzati e affidabili. Se desideri un approfondimento ti invito ad andare sul mio sito mircocuneo.it per trovare tanti altri articoli e video riguardanti sia questo che altri argomenti di vendita, marketing e mindset. Nello specifico riguardo Amazon troverai il mio articolo intitolato Oltre l'e-commerce, vendere su Amazon per ampliare il tuo business in cui ti fornisco ulteriori informazioni utilissime se vuoi vendere sull'e-commerce più famoso al mondo. Infatti è molto meglio avere una traccia scritta per determinati temi un po' più complicati. Sul sito trovi anche la pagina con tutti i miei contatti, chiedimi una consulenza e fammi tutte le domande che desideri. Posso aiutarti ad avviare e portare al successo il tuo business su Amazon. Intanto ti do l'appuntamento per la prossima settimana con un nuovo podcast. L'uscita è sempre il giovedì. A presto! Grazie! 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 Grazie!